Dopo l'esordio positivo, la seconda giornata mette di fronte la Viola Fuzzal, significa che sarà una trasferta bella tosta, però il Canicati, l'Alcattà, ce la metterà tutta per tornare con i tre punti. Speriamo di tornare con i tre punti, è una trasferta bella tosta anche perché essendo all'aperto non ci aiuta molto sul piano tecnico, visto che ormai fortunatamente a Canicati riusciamo a lavorare al palazzetto dello sport. Andiamo a Nicosia proprio a giocare contro il Cerami e cercare di portare a casa i tre punti che potrebbero darci un po' d'aiuto a cercare di vincere il campionato perché l'obiettivo nostro è almeno arrivare alla fase playoff. Non diciamo vincere il campionato, però almeno arrivare alla fase playoff perché ragazzi è una bella squadra, coesa e molto tecnica. Cosa vi ha spinto a riprendere sulla scia dell'esperienza degli anni passati nel campionato che è comunque un campionato difficile con le Serie D? A volte pensiamo perché l'abbiamo fatto, però purtroppo è una passione. Dopo che per due anni fa sono stato in Serie A con le ragazze della Vigor San Cataldo, ho fatto questa bellissima esperienza, sicuramente un'altra tipologia di esperienza nei campi di Serie A. Sono rimasto fermo un anno per scelta mia e mi mancava qualcosa, non riuscivo a stare al di là delle tribune perché mancava proprio il campo. E poi sicuramente la vecchia PGS Domenico Savio che è rimasta nel cuore, ma che per ovvi motivi dopo la partenza di Salesiani abbiamo dovuto chiudere. Diciamo abbiamo dovuto rifondare una società nuova, sempre partendo dai valori salesiani, da Don Bosco, però un'associazione laica dove sviluppiamo il futsal, la pallavolo mista come poi sportiva. Per quanto riguarda invece gli elementi che sono a disposizione del mister, naturalmente sono giocatori che si conoscono, che conoscevi nel tempo, o ci sono stati nuovi innesti? I ragazzi sono ragazzi che giocavano proprio sei anni fa con la PGS Domenico Savio e militavano nel campionato di Serie D, sfiorando pure la C2 in una parentesi. Poi per scelta nostra abbiamo deciso di non iscrivere perché purtroppo anche gli sponsor a volte non riescono a aiutare, perché si vive di sponsor, anche tuttora abbiamo qualche difficoltà, cerchiamo qualche sponsor. Però ci siamo fatti forza e abbiamo deciso di ripartire con questi ragazzi, ragazzi che conoscono molto bene la C2, ragazzi che dopo l'esperienza da Domenico Savio hanno fatto l'esperienza con altre società canicattina e si di futsal, hanno ben figurato, hanno fatto bene e poi quest'anno si è deciso di intraprendere un nuovo progetto con delle importanti aspirazioni. Che livello tecnico c'è in questo campionato? Allora, si può dire poco vedendo solamente una gara, però da quello che abbiamo visto ci siamo resi conto che tra la 1C2 e una Serie D, perché termini di paragone a canicatti possiamo fare tra la Serie C2 e la Serie D, la Serie C2 è molto tecnica e anche un po' tattica, però forse a volte la tecnica e la tattica privilegiano questi aspetti e non lasciano spazio all'atletica. Mentre in una Serie D dove ci sono anche elementi di atleti che provengono dal calcio 11 allenati, atleticamente privilegiano la parte atletica e sono molto più veloci, hanno un gioco più maschio rispetto a un gioco tecnico, tattico che si potrebbe fare.